Il Natale teatino è pronto ad accentersi nel weekend, allo scalo questo fine settimana. Aspettando Natale, annunciano il vice sindaco delegato agli eventi Paolo De Cesare e Manuel Pantalone, assessore al commercio, in collaborazione con l'associazione Nuova Teate del presidente Bascelli. Porteremo nella parte bassa della città con mercatini di Natale che rimarranno attivi per il periodo natalizio, con un'isola periodonale in questo fine settimana tra Via di Virgilis e Via Scaraviglia, con l'iniziativa Aspettando Babbo Natale, con il coinvolgimento delle scuole, gli alunni allestiranno un albero di Natale e un presepe, con il giardino delle pubbliche letture, con attrattive per i più piccini e per i più grandi. Sta per arrivare l'8 dicembre e ci resterà fino all'8 gennaio uno speciale allestimento dei mercatini di Natale in Corso Marucino nel centro storico della città. Abbiamo puntato sulla qualità sia dal punto di vista strutturale con delle casette di legno veramente molto belle da un punto di vista estetico che da un punto di vista delle categorie merceologiche, centrate sull'artigianato, sulle tipicità, su tutto ciò che saprà regalare un Natale importante ai nostri concittadini. Un Natale accogliente e felice è quanto vuole dare e augurare l'amministrazione Ferrara a quanti ferranno anche da tutto l'Abruzzo in città. Ecco, quest'anno vogliamo puntare sulla qualità per un Natale veramente bello ed importante per la nostra città.